Lo spettacolo più atteso della stagione, certamente il caso teatrale dell'anno, è Slave Play di Jeremy O'Harris, un autore di fatto debuttante che si è fatto notare per aver scritto a soli 21 anni, poi completato quando ne aveva 25, questa commedia che è stata messa in scena off-Broadway l'anno scorso ed ha avuto un intero anno di sold out in un piccolo teatro gestito tutto dal New York Theatre Workshop. È stato tale il caso e soprattutto è stata tale l'accorrenza dei superstar che vanno da Madonna a Scarlett Johansson, che sono tutte accorse a vedere questo fenomeno, che si è deciso di investire e spostare lo spettacolo a Broadway al Golden Theatre, uno dei teatri più prestigiosi e importanti di Broadway stessa. L'investimento è stato significativo, 3 milioni e mezzo di dollari, alcuni siti un po' pettegoli dicono che in realtà il rischio è grande perché finora sono stati venduti biglietti solo per 800 mila dollari per una programmazione prevista di quasi 5 mesi. Perché è così incredibile questo caso? Perché tutta New York ne parla? Ci sono articoli che si scontrano, si confrontano, cercano di analizzare il testo. Innanzitutto per la giovanissima età del ragazzo, che è un ragazzo di colore, un ragazzo apertamente omosessuale, che affronta un tema che sembra fatto per far discutere. Il rapporto sessuale tra master e slave, cioè tra padrone e schiavo, ed il rapporto sessuale tra persone di sesso diverso a delle volte ma anche dello stesso senso in altri casi, quando questo rapporto nasce su una disparità, appunto, il padrone nei confronti dello schiavo. Lo spettacolo è diviso in tre parti, il primo che è una serie di vignette, di sketch ambientate all'epoca della schiavitù, dello schiavismo, in una piantagione in Virginia, si chiama work, il secondo si chiama process e il terzo exercise. Il primo è il meno interessante perché questi sketch sono volutamente bidimensionali, raccontano appunto l'attrazione sessuale in due casi tra un uomo e una donna, nel terzo caso tra due uomini, appunto una coppia omosessuale. Nella seconda parte, che di gran lunga la più interessante, scopriamo che questi sketch, queste vignette, sono da un lato il tema su cui discutano un gruppo in analisi collettiva e sono nello stesso tempo l'inevitabile conclusione. Quello che ci dice Jeremio Harris è che nelle coppie interraziali è sempre inevitabile una relazione tra padrone e schiavo. È sempre inevitabile che il colore della pelle abbia un ruolo imprescindibile e nello stesso tempo aumenti questa differenza portatrice di dolore, portatrice di disparità. Tant'è vero che nella terza parte, che appunto si chiama exercise, si ritorna all'inizio, si ritorna alla piantagione in Virginia e c'è una conclusione che non ha nulla di catartico. Il testo, diciamo, è abbastanza sorprendente se si pensa che è stato scritto da un ragazzo così giovane ed è abbastanza inquietante per come è strutturato, ma nello stesso tempo ha dei difetti, dei difetti di maturità. È per esempio molto ripetitivo, ci sono delle battute sicuramente efficaci, ma nello stesso tempo insistite. È come se ancora non si sentisse abbastanza pronto, abbastanza maturo per affermare qualcosa una sola volta o, come dire, di sfuggita. Non mancano i momenti a effetto, non mancano delle scene anche esplicite che in qualche modo titillano il pubblico che sta correndo in massa. Non manca da parte dei produttori la volontà di spingere, cercare di generare un caso ancora più grande e di coltivare un audience di colore. Per esempio sono stati studiati delle campagne per far sì che l'audience sia prevalentemente nera o comunque che l'audience nera abbia dei prezzi di favore. C'è stata una serata che è stata addirittura soprannominata Black Out perché era stata fatta con una serie di inviti quasi esclusivamente alla grande comunità nera di New York. Cosa ci lascia questo spettacolo che è comunque da vedere e comunque segna la nascita o consacra la nascita di un grande talento? Il fatto che nei rapporti sessuali gioca sempre una disparità e il fatto che nei rapporti razziali è inevitabile che qualcuno prenda il sopravvento. È una conclusione molto amara, una conclusione molto dura, ma che il pubblico sembra sposare fino in fondo. Un saluto da Central Park West. Grazie a tutti.